Vicario ha un problema? Guglielmo Vicario Vabbè che problema c'ha Vicario? C'avrà un problema che prende un po' pochi soldi? No Vabbè c'ha dei problemi in famiglia? Che c'ha? No Vabbè che problema ha Vicario, Faina? Che non si chiama William Substitute Ed è non nato nella contea di Hampshire in Inghilterra Oggi non solo varrebbe 60 milioni Non solo varrebbe 60 milioni Ma lo troveremo su 4-3-3 E invece no Perché di Udile? Chiaramente non c'è ma andiamo avanti